Ciao amici, sapete che c'è un modo per allungare la vita del cervello? Davvero? Io sapevo che i neuroni non si rigenerano. È vero a metà. Secondo recenti studi, alcune cellule cerebrali si rigenerano, ma quello che conta di più è rallentare l'invecchiamento cerebrale. E per farlo, come sempre, si parte dalla tavola. Anche perché ad oggi non esistono terapie o farmaci in grado di rallentare il declino cognitivo, quindi l'unica strada è la prevenzione. Siete pronti a conoscere il segreto della dieta amica del cervello che aumenta memoria, concentrazione, performance e ci mantiene giovani più a lungo? Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Il segreto è stato scoperto tra i centenari che vivono in Giappone, nell'isola di Okinawa, grazie a uno studio della Sydney University. Una dieta con più carboidrati che proteine è la chiave per un cervello sano e giovane. Infatti, nella cosiddetta dieta Okinawa, le proteine sono meno del 10% dei nutrienti, mentre la maggior parte sono carboidrati, ma complessi, come le patate dolci. Le proteine poi sono magre o vegane, pesce, soia, legumi, un po' come avviene nella dieta mediterranea. Bello, ma la performance? Ecco la notizia. Secondo lo studio, questa dieta protegge l'ippocampo dai danni dello stress e questo si traduce in maggiore memoria, più concentrazione, migliori performance di attenzione e focus mentale. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista di settore Cell Reports. Interessante, vero? E per seguire tutti gli altri miei video, iscrivetevi al canale, è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!